Ciao ragazzi, bentornati al mio canale. Io sono Mary Art. In questo video dipingerò un padro insieme a voi. Apro la nuova scatola dei colori Mary Mary. È uscito un po' troppo bianco. Metto lo scotch nel quadro e ho inizio a disegnare lo sfondo. Un po' troppo bianco. Ora che ho finito la parte di sotto tolgo lo scotch. Ora che ho tolto lo scotch divendo il vaso. E' un po' troppo bianco. Ora metto il colore per i fiori e inizio a dipingere. Disegnare i fiori e questo è l'ultimo. Ecco, finiti i fiori. Questo è il risultato del quadro finito. Ecco qua. Iscrivetevi nei commenti se vi è piaciuto il video. E' un po' troppo bianco fundedi. Grazie a tutti.